Sì, alla seconda domanda rispondo subito. Sì, certamente, ma io li vedo regolarmente, i leader dei partiti. Non è che debba fare uno sforzo particolare per vederli ora. Il colloquio anche personale, fatto di incontri personali, è continuo. E per quanto riguarda la prima parte, sì, certo, ci sono delle diversità di opinioni. È successo. La delega fiscale è stata approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, quindi ora il fatto di cambiarla è difficile. Il Governo ha le sue, ieri sostanzialmente, quel che ho fatto è semplicemente ricordare quello che è il mandato del Governo. E il mandato del Governo, un Governo creato dal Presidente della Repubblica per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati. Quindi io sono sicuro che riusciremo a conseguire questi risultati come l'abbiamo fatto finora. E conto sul Parlamento, sulle forze politiche e quindi col massimo rispetto che ho detto le cose che ho detto ieri. D'altronde non può che essere così perché il Governo, io stesso, abbiamo sempre offerto tutta la disponibilità necessaria. Se necessario rivedremo certe forme di colloquio, di dialogo, di confronto. Ma teniamo dritta la barra del timone.